La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Quino, informa su un nuovo servizio offerto alle aziende, l'iscrizione al mercato elettronico della pubblica amministrazione. Da più parti, spiega la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, la dottoressa Maria Antonietta Quino, sono stata invitata ad avviare questo nuovo servizio. La richiesta è partita proprio dalle aziende perché la nostra azione di ascolto e confronto con il territorio è costante e continua. Abbiamo quindi avviato in tempi brevi questo nuovo servizio, utile per chiunque si voglia avvicinare al mercato elettronico. Per tutte le informazioni, ha concluso la Quino, come sempre siamo disponibili presso i nostri uffici, pronti ad offrire supporto personalizzato e completo. Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all'email Vallo di Diano, Chiocciola, Impresealcentro.it, al numero di telefono 0975 527277 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.